Il pittore Sandro Luporini si aggiunge ad una qualificata compagnia, è Giorgio Gaber che fa la serenata ai quadri esposti dall'artista di Aregino in una nota galleria milanese. Nel cordiale incontro tra pitture e musica leggera non manca Maria Monti, una cantante molto personale. In questo fragoroso omaggio a Luporini dei cantautori milanesi in un clima da barbera gogo, cui si aggiunge anche Enzo e Annacci, quasi quasi dimenticavamo di dare un'occhiata ai quadri che sono invece degni di attenzione per la loro felicissima vena poetica, al limite tra il figurativo e l'aspetto, tra la realtà e la fantasia, come in un lirico dormiveglia.